Papa Francesco invia i giovani della GMG, cambiate il mondo con Gesù. Sarà a Panama nel 2019 la prossima giornata mondiale della gioventù. E sull'aereo di ritorno da Cracovia il pontefice rifiuta l'accostamento religione e terrorismo, non è giusto identificare l'Islam con la violenza. Insieme per vincere la paura e costruire relazioni basate su rispetto e accoglienza reciproca, inedito gesto della comunità islamica del Tiguglio che ha partecipato alla messa celebrata dal Vescovo. Don Marco Torre sarà il nuovo parroco di Santo Stefano del Ponte a Sestri Levante, Don Stefano Libini amministratore parrocchiale in Alta Val Graveglia, Don Pino Carpi nuovo rettore del santuario di Sant'Antonio a Chiavari. Si è insediata la dottoressa Bruna Rebagliati, nuovo direttore generale della ASL4, presi i primi contatti con gli uffici tra gli obiettivi portare l'azienda sanitaria tra le eccellenze del settore. Ambiente è decisa la promozione congiunta delle cinque terre di Porto Venere, anche gli otto comuni del patrimonio UNESCO entrano nelle attività di valorizzazione del territorio dell'estremo Levante. Ai Trisome Games di Firenze, Marta Cantero della Chiava Rinuoto ha vinto nel nuoto sincronizzato, alla competizione hanno preso parte 900 ragazzi che si sono cimentati in nove discipline. Buonasera ai telespettatori di Tiguglia oggi e bentrovati al nostro appuntamento con l'informazione. Fidatevi di Dio e cambierete il mondo. Nella messa conclusiva della GMG di Cracovia, in un campus misericordia e gremito di giovani da tutto il mondo, due milioni secondo alcuni media polacchi, Papa Francesco lancia nella sua omelia la sfida ai giovani per la costruzione di un mondo di pace e giustizia. All'Angelus, poi il Papa ha annunciato che la prossima GMG si svolgerà a Panama nel 2019. Per la prima volta dunque una giornata mondiale della gioventù approderà nel centro America. Ma vediamo il servizio di Radio Vaticana. Gesù fa il tifo per voi, sempre Gesù vi rialzo ogni volta che cadete, vi ama nonostante le vostre debolezze, con lui potete cambiare il mondo. E' l'appello lanciato da Francesco nella GMG della Misericordia, un evento che ha testimoniato come l'amore e la riconciliazione possano vincere il male che attanaglia tanti popoli del mondo. Francesco arriva al Campus Misericordia in Papa Mobile, poco prima ha benedetto due case dono della Caritas, una per i poveri, l'altra per gli anziani in difficoltà. Sullo sfondo del grande palco la figura di Gesù Misericordioso, accanto i volti di Santa Faustina Kowalska e San Giovanni Paolo II, patroni di questa giornata, santi di questa terra. Ma si vivono anche momenti toccanti come l'invio missionario, quando il Papa consegna ad alcuni giovani una lampada a segno della luce di Cristo. Proprio sull'incontro con Gesù è incentrata l'omelia della messa conclusiva della GMG. Francesco muove la sua meditazione dall'incontro sorprendente tra Gesù e Zaccheo, il capo dei pubblicani. Zaccheo ha detto ha dovuto superare alcuni ostacoli che, sottolinea, possono dire qualcosa anche a noi. Zaccheo era di bassa statura e per questo non riusciva a vedere il maestro. Questa, ha detto, è una tentazione che anche noi possiamo sperimentare, non sentirsi all'altezza, avere una bassa considerazione di se stessi. La nostra statura ammonisce però la nostra identità spirituale. Dobbiamo sentirci davvero figli amati da Dio, altrimenti vivremo scontenti, rifiutando lo sguardo di Dio che si posa su di noi. Dio ci ama così, come siamo. E nessun peccato, difetto o sbaglio li farà cambiare idea. Per Gesù, se lo mostra il Vangelo, nessuno è inferiore e distante, nessuno è insignificante, ma tutti siamo prediletti e importanti. La GMG comincia oggi e continua domani a casa perché lì ha sottolineato che Gesù vuole incontrare i ragazzi d'ora in poi. Il Signore ha detto ancora, spera che tra tutti i contatti e le chat di ogni giorno ci sia al primo posto il filo d'oro della preghiera. Quanto desidera che la sua parola parli a ogni tua giornata, che il suo Vangelo diventi tuo e che sia il tuo navigatore sulle strade della vita. Fidatevi del ricordo di Dio. La sua memoria non è un disco rigido che registra e archivia tutti i nostri dati. La sua memoria è un cuore tenero di compassione. Proviamo anche noi, ora, a imitare la memoria fedele di Dio e a custodire il bene che abbiamo ricevuto in questi giorni. E all'Angelus poi l'annuncio che la prossima giornata mondiale della gioventù nel 2019 sarà a Panama, in Centro America. Ma ultimo appuntamento del viaggio in Polonia è stato poi l'incontro con i volontari della giornata mondiale della gioventù alla Tauron Arena, il grande palazzo dello sport costruito a circa 10 chilometri da Cracovia. Poco prima un fuori programma, l'affaccio, il quarto in queste giornate del Papa Interpolacca, al balcone dell'Arcivesco Vado per un ultimo saluto e una benedizione ai tanti giovani che si erano radunati davanti all'edificio. Tantissime grazie per questa compagnia, per essere venuti qui a salutarmi. Tante grazie per la colorosa accoglienza di questi giorni, ha detto loro il Papa, che ha concluso con un dasvidania, ovvero arrivederci. E sono ancora vive le immagini suggestive della grande veglia di sabato nel quale il Papa ha spronato i giovani. Non siamo venuti al mondo per vegetare, per fare della vita un divano, ma per lasciare un'impronta e insegnare ai grandi del mondo a costruire ponti di fraternità. E' questo il messaggio davanti al circa 1.600.000 di giovani presenti sempre nel campus della misericordia. Il Papa, nel suo discorso, ha invitato a camminare sulla strada indicata da Dio per rompere le paure e il terrore che provocano chiusure e paralisi. I giovani, è stata l'esortazione, insegnano agli adulti a convivere nella diversità. Sentiamo. Costruire ponti. Sapete qual è il primo ponte da costruire? Un ponte che possiamo realizzare qui e ora. Stringerci la mano. Darci la mano. Forza. Fatelo adesso. Tante mani di colori diversi, strette, rivolte al cielo, segno di comunione e riconciliazione. E' l'istantanea della veglia della GMG di Cracovia illuminata da luci rosa e azzurre, colori della misericordia. Giovani provenienti da culture e paesi lontani. La catena di fraternità dei ragazzi di Francesco è l'impronta che vogliono lasciare ai grandi del mondo rispondendo all'invito di Gesù. Forte l'appello del Papa che insieme a cinque giovani rappresentanti dei continenti barca la porta della misericordia. Non vivete addormentati, non lasciate che altri decidano il vostro futuro. Alla comodità preferite la libertà. Abbandonate il divano della paralisi e protagonisti della storia indossate gli scarponi. Il tempo che oggi stiamo vivendo non ha bisogno di giovani divano, muoci canapovi. Ma di giovani con le scarpe, meglio ancora, con gli scarponcini calzati, questo tempo accetta solo giocatori titolari in campo. Non c'è posto per riserve. Il mondo di oggi vi chiede di essere protagonisti della storia perché la vita è bella sempre che vogliamo viverla, sempre che vogliamo lasciare un'impronta. La storia oggi ci chiede di difendere la nostra dignità e non lasciare che siano altri a decidere il nostro futuro. Carico di speranza e segno di comunione, il silenzio della preghiera di fronte a Gesù e Eucaristia che i tantissimi giovani hanno adorato in ginocchio con il Papa in questa notte speciale a Cracovia. E durante il viaggio di rientro Francesco a bordo dell'aereo ha tenuto la tradizionale conferenza stampa con i giornalisti. Tra i temi toccati quelli dell'incontro con la Polonia, il dialogo con i giovani, la situazione in Turchia e in Venezuela. Poi ha ringraziato padre Federico Lombardi ieri al suo ultimo giorno come direttore della sala stampa vaticana dopo dieci anni. Un commento poi sulla situazione legata al terrorismo e al legame sbagliato che si fa tra violenza e Islam. Sentiamo proprio il passaggio. Credo che non è giusto identificare l'Islam con la violenza. Questo non è giusto e non è vero. Ho avuto un dialogo lungo con l'Iman, il gran Iman della Università Al-Azhar e so come pensano loro. Cercano la pace e l'incontro. Il dialogo tra cattolici e musulmani si è concretizzato nella giornata di ieri con la partecipazione dei fedeli di fede musulmana alle celebrazioni della messa in molte parrocchie tra Francia e Italia. Un'iniziativa lanciata dall'Islam francese che è stata accolta anche nel Tiguglio. Nel nostro territorio la comunità islamica ha preso parte alla messa celebrata dal Vescovo che era ospite della parrocchia di San Giacomo di Corti a Santa Margherita Ligure in occasione della festa patronale. Vediamo. Un gesto inedito, concreto e simbolico al tempo stesso. I rappresentanti della comunità islamica del Tiguglio hanno letto un messaggio all'inizio della celebrazione eucaristica preseduta dal Vescovo. In quanto parte integrante della società civile del Tiguglio hanno espresso la più ferma condanna di ogni forma di violenza perpetrata in nome di Dio. Nel messaggio vengono inoltre citati alcuni passaggi del Corano che invitano al rispetto reciproco fra le religioni. Sia il Corano sia la vita del nostro profeta hanno sempre dato dei simboli che comunque vanno rispettati. Basta leggere i detti del nostro profeta e sono pieni di esempi. Questi che stanno facendo questi atti terroristici sono gente vuota perché lo vediamo che sono comunque gente che non sa niente dell'Islam, gente vuota dentro. Voi come state vivendo questo momento così drammatico per tutta l'Europa? Un po' di paura c'è ma insieme alle altre si supera. Per quello insieme a voi, insieme ai nostri amici, ai nostri parenti, ai nostri connazionali comunque si riesce ad andare avanti. Monsignor Alberto Tanasini è ringraziato con commozione per il gesto compiuto che va nella direzione di un dialogo iniziato e intessuto già da diversi anni. Che vede protagonista la comunità islamica nella sua veste più istituzionale ma anche tante singole persone di fede musulmana che a titolo personale intrattengono relazioni di amicizia e scambio reciproco con molti cristiani. Io ho avuto anche contatti con il liman della comunità di Sestri che non poteva essere presente ma ci ha tenuto a dire che venivano dalla sua comunità. Insomma tutto questo credo sia un seme che porterà frutto, che sta portando frutto. Un'anime l'adesione alla lettura della grave situazione internazionale offerta da Papa Francesco. Questa non è una guerra di religione. Spesso sento in giro, ma questi vengono, ci uccidono, ci tagliano la gola, ci fanno questo, ci fanno. Per fortuna il Papa, che è il simbolo del cristianesimo, ha detto non è una guerra di religione ma è guerra di altri interessi. La volontà di Dio, che è volontà di incontro, di capacità, di fraternità eccetera, è molto chiara secondo me. E quindi se la religione opera nel nome di Dio, nel nome di Dio non si può pensare di approprarsi di questo nome per fare la guerra o comunque qualunque gesto di violenza. Abbiamo così aperto la pagina dedicata ai temi diocesani e sono state ufficializzate alcune nomine per diversi sacerdoti del nostro territorio. Vediamo. Don Marco Torre, attualmente aiuto pastorale nella parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa a Lavagna, sarà il nuovo parroco della comunità di Santo Stefano del Ponte a Sestri Levante. Don Marco, nato il 15 agosto del 1965, ordinato sacerdote il 3 giugno del 1990, è stato parroco in Alta Val Fontana Buona all'inizio del suo ministero pastorale. Per molti anni, a partire dal 1992, è stato vicario parrocchiale di San Siro a Santa Margherita Ligure e successivamente parroco di San Giacomo di Corte e poi anche di Santa Margherita, a partire dal 2010 fino al 2013, quando ha lasciato l'incarico per dedicarsi ad un periodo di studio, coadiuvando nel contempo la parrocchia di Maria Madre della Chiesa, specie per quanto riguarda la pastorale giovanile. Don Pino Carpi, attualmente parroco di Santo Stefano del Ponte a Sestri Levante, sarà il nuovo rettore del santuario di Sant'Antonio a Chiavari e al contempo ricoprirà l'incarico di direttore della Casa del Clero. Don Pino, nato a Rapallo il 3 ottobre del 1940, è stato ordinato sacerdote il 15 agosto del 1964. Il suo ministero pastorale lo ha portato in diverse comunità parrocchiali del nostro territorio. Fino al 2000 è stato parroco di Santa Margherita a Santa Margherita Ligure e successivamente di Santa Maria di Nazareth e poi di Santo Stefano del Ponte a Sestri Levante. Ufficializzata anche la nomina di Don Stefano Libini, sacerdote novello, ordinato lo scorso 15 maggio, che diventa amministratore parrocchiale delle comunità di San Lorenzo di Arzeno, Santa Pollinare di Reppia, San Bartolomeo di Statale, San Pietro di Zerli e Santa Maria Assunta e San Michele di Nascio. Don Stefano, nel contempo, assume l'incarico di vice parroco di Santa Maria Madre della Chiesa a Lavagna. Le comunità dell'Alta Val Graveglia erano state guidate fino ad oggi da Don Matteo Benetti, che diventa parroco di Gattorna, Neirone, Roccatagliata, Ogno e Urri. È stata intanto fissata la data dell'ingresso ufficiale del nuovo parroco della comunità dei Santi Gervasio e Protasio a Rapallo, Don Stefano Curotto, attuale vice parroco. Il suo ministero inizierà ufficialmente l'11 di settembre. La parrocchia di San Giuseppe dei Piani di Ria Chiavari ha festeggiato ieri la patrona, Nostra Signora della Salute. Al mattino la Santa Messa Solenne è stata presieduta dal prete novello Stefano Libini. In serata, dopo il canto del Vespro, si è svolta la processione per le vie del quartiere con l'Arca della Madonna portata a spalle dagli uomini della parrocchia, a cui ha partecipato anche la banda della città di Chiavari. Molti i fedeli che hanno partecipato è pregato con devozione. Al termine, la riflessione in chiesa è stata tenuta da Don Gianluca Trovato, abate della chiesa di Nostra Signora del Ponte di Lavagna. Non si è potuto ottenere il previsto spettacolo pirotecnico a seguito del divieto giunto dalla Prefettura di Genova e dovuto al pericolo di siccità e l'elevato rischio di incendi. E veniamo adesso alla cronaca. È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Martino di Genova, il giovane di 15 anni che ieri, intorno alle 16, con sua moto si è schiantato contro un'auto all'imbocco della Galleria di Sant'Anna a Sestri Levante. Il ragazzo è uno studente chiavarese. Allo stato attuale non è possibile stabilire con certezza per quale ragione abbia improvvisamente invaso la corsia opposta mentre viaggiava in direzione Lavagna. La persona che era alla guida dell'auto ha frenato ma non è stato possibile evitare l'impatto. Il giovane in stato di incoscienza è stato soccorso dal personale medico del 118, coadiuvato dai volontari della Croce Verde di Sestri Levante ed è stato trasportato a Genova con l'elissoccorso dei Vigili del Fuoco, atterrato nella piazzola del casello autostradale. Per tutta la durata delle operazioni di soccorso il traffico è stato bloccato e per le due ore seguenti è stato regolato a senso unico alternato che ha generato lunghe code fra Sestri Levante e Lavagna. Il Consiglio regionale nella seduta odierna ha approvato con 16 voti a favore e 15 contrari il rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2015 che si attesta sui 5 miliardi e 145 milioni di entrate e 5 miliardi e 97 milioni di spese di competenza. Complessivamente il risultato della gestione dell'anno passato al netto degli accantonamenti obbligatori e delle poste vincolate presenta una disponibilità pari a 3 milioni e 500 mila euro. Portare la realtà dell'ASD 4 Chiavarese tra le eccellenze del sistema sanitario regionale è l'obiettivo che si pone la nuova direttrice generale dell'azienda sanitaria del Tiguglio, Bruna Rebagliati, che proprio questa mattina si è insediata negli uffici di Via Ghio a Chiavare. Siamo andati a intervistarla. Primo giorno insediamento ufficiale per il nuovo direttore dell'ASD 4 Chiavarese. Qual è la sensazione? Che ambiente ha trovato? Un ambiente molto positivo. Ho trovato collaboratori disponibili con i quali ho già fatto una prima condivisione d'insieme della situazione d'insieme. Sicuramente è troppo presto per esprimere un giudizio ma posso dirvi che sono assolutamente contenta della situazione che ho trovato. Quali saranno i passi successivi al suo insediamento? Guardi, da subito conoscere bene le strutture, la realtà, incontrare i miei collaboratori, incontrare i sindaci, quindi cercare di capire quali sono le esigenze più importanti in modo da affrontarle immediatamente. Già tra poco andrò all'ospedale di Lavagna e a seguire tutti gli altri ospedali e strutture territoriali in modo da avere prima possibile una visione d'insieme dell'azienda. ASD 4 è un territorio tutto sommato piccolo rispetto al capoluogo Ligure ma complesso nel suo insieme e anche strutturato sul territorio. Come tende, intenderà comunque unire, fare sistema tra queste realtà? Eh beh, lei mi sta chiedendo già un programma, è troppo presto per darle una risposta. La prima cosa è conoscere. Io sono dell'idea che se si conoscono le realtà si possono organizzare nel modo migliore e quindi il mio primo passo sarà quello di avere una conoscenza a 360 gradi, confrontandomi con tutti gli interlocutori necessari. Cosa porta dalla sua esperienza pregressa da Genova, dagli ospedali? Beh, è stata un'esperienza meravigliosa. Ho lavorato in ASD 3 tantissimi anni, dal 1999, quindi si immagini sono 17 anni che lavoro in ASD 3. Dal 2008 che dirigevo il presidio ospedaliero unico, ho trovato anche là collaboratori splendidi, è stata un'esperienza importante. Devo dirvi che mi porto dietro un bagaglio di esperienza, di cultura, di conoscenza, anche di affetti, perché poi insomma passiamo sul posto di lavoro molto più del tempo che passiamo a casa, che sicuramente saranno importanti in questa nuova avventura. Ed è aperto il bando di ammissione per l'anno accademico 2016-2017 ai corsi di laurea delle professioni sanitarie in infermieristica e in fisioterapia curati dalla Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche dell'Università di Genova. Notizia che troviamo anche sul nostro sito internet, teleradiopace.com. Le lezioni si terranno nel polo didattico dell'ASD 4, al villaggio del ragazzo di San Salvatore di Cogorno. Le domande per partecipare alle selezioni dovranno essere presentate entro le 12 del 25 agosto esclusivamente tramite internet attraverso il portale Studenti dell'Università degli Studi di Genova all'indirizzo www.studenti.unige.it Ancora cronaca, sono ritenuti responsabili di rapine con sequestro di persona i quattro stranieri di origine cinese che sono stati arrestati questa mattina. Uno di questi, infatti, di questi reati è stato commesso a rapallo la scorsa estate e gli altri in Toscana. Le indagini sono scaturite da una rapina messa a segno nel dicembre del 2015 a Capannori, in provincia di Lucca. I quattro cinesi avevano fatto irruzione armati in casa di un connazionale e titolari di tre magazzini per la vendita di articoli per la casa e avevano portato via denaro e oggetti preziosi per una montare di circa 20.000 euro. Grazie alla collaborazione della Compagnia Carabinieri di Santa Margherita Ligure i militari lucchesi sono riusciti a indirizzare fin da subito le indagini concentrandosi su alcuni cinesi che vivono a Prato. Di qui sono scattati monitoraggi e pedinamenti che hanno portato ad individuare tutto il gruppo criminale. Le persone che ne facevano parte sono state fermate, nelle loro case sono stati trovati alcuni degli oggetti rubati a dicembre a Capannori. Il GIP presso il Tribunale di Lucca ha emesso il provvedimento di custodia cautelare in carcere a fronte degli indizi di colpevolezza raccolti a loro carico. Si tratta di quattro uomini di età compresa tra 23 e 44 anni che oltre alla rapina di Capannori sono ritenuti responsabili di altri tre episodi analoghi, uno dei quali appunto è avvenuto il 14 agosto del 2015 a Rapallo. Parte il piano di gestione del sito UNESCO Porto Venere, Cinque Terre e Isole Palmari a Tino e Tinetto. È stato siglato questa mattina infatti il protocollo d'intesa tra la Regione Liguria, il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, il Parco Nazionale delle Cinque Terre e i comuni di Porto Venere, Levanto, Monterosso, Pignone, Rio Maggiore, La Spezia, Vernazza, Beverino, Ricco del Golfo. Alla firma erano presenti il Presidente della Regione Liguria, il Sottosegretario ai Beni e alle Attività Culturali, Ilaria Borletti-Buitoni, il Presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre, Vittorio Alessandro e i sindaci dei comuni dell'area, oltre ai rappresentanti di FILS. Per la prima volta da quando l'area è stata dichiarata Patrimonio Mondiale dell'Umanità e inserita sotto la tutela dell'UNESCO nel 1997, si è ritenuto di estendere il piano di gestione anche agli otto comuni dell'area interessata, oltre a Porto Venere, per promuovere nel modo più ampio possibile il valore eccezionale del sito. Per la politica, Fabio Tosi è il nuovo capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Liguria, 38 anni, di Rapallo. Tosi subentra ad Andrea Melies e resterà in carica fino al febbraio 2017, quando passerà la staffetta al nuovo vice capogruppo Marco De Ferrari. Il cambio di capogruppo rientra nell'ottica della rotazione semestrale prevista dal Movimento che mira a garantire la massima equità e trasparenza all'interno del gruppo consigliare. Un'altalena e altri giochi per bambini sono stati sistemati nei giardini pubblici della frazione di Francolano a Casarza Ligure e sono un dono dell'associazione Cardini Critical Wine, promotrice della nota e apprezzata manifestazione enogastronomica che ha luogo nel mese di giugno. L'altalena e gli altri giochi sono stati finanziati con più di 5.000 euro derivanti dai proventi dell'edizione 2015. E si è spento all'età di 94 anni Federico Marcone, il fondatore insieme al fratello dell'omonima impresa di viaggi chiavarese, originario di Sant'Andrea di Rovereto, imprenditore vecchio stampo, infaticabile lavoratore, punto di riferimento per l'organizzazione di viaggi in tutto il mondo. Marcone lascia la moglie Lia, i figli Paolo e Andrea, il nipote Federico e il fratello Giovanni. A loro vanno le condoglianze da parte di tutto lo staff di Telepace. Ancora cronaca, un 53enne di Rapallo è stato deferito in stato di libertà per guida in stato di ebrezza alcolica. L'uomo in via del Castellino, sempre a Rapallo, è stato protagonista di un incidente stradale alla guida del proprio motociclo. Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna, a seguito di analisi, è risultato avere un tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla legge. Per questo i carabinieri gli hanno ritirato la patente di guida ed è scattato il sequestro amministrativo del mezzo a due ruote. Ora nella nostra scheda gli appuntamenti in agenda per domani. Martedì 2 agosto dalle 19.30 sarà possibile sedersi a tavola in Val Graveglia, una iniziativa degli operatori del settore turistico che invitano ad una serata dal sapore tradizionale che si terrà nell'area verde Sandro Pertini di Conscienti a Nè. Liberi Cantattori è il titolo della serata che si svolgerà ai giardini della Torre del Borgo di Lavagna con la partecipazione di quattro cantautori locali e sketch comici. Appuntamento alle 21. Le offerte raccolte serviranno a sostenere le persone più bisognose del comune di Lavagna. Prosegue la rassegna di teatro dialettale Elio Rossi di Chiavari. Nei giardini di Villa Rocca alle 21 la compagnia teatrale San Fruttuoso di Genova porterà in scena la commedia Bocce, tre atti di Aldo Acquarone per la regia di Daniele Pellegrino. Per il Festival Paganiniano di Carro Paganini Rediscovered inediti paganiniani ritrovati da Luca Fanfoni e Danilo Prefumo. Appuntamento alle 21 in località Arola, Sesta Godano. Per i più piccoli c'è la rassegna El Flauto Magico che si tiene ai giardini martiri delle foibe di Santa Margherita Ligure a partire dalle 21.15. Teatro in trambusto di Lignano Sabbiadoro porta in scena Varietà Prestige. E si è concluso con l'ultima amichevole a Piacenza il ritiro estivo della Virtus Entella che ha sostenuto a Brentonico in Trentino due settimane di lavoro intenso che hanno permesso a Mister Breda di conoscere gli effettivi a sua disposizione e di lavorare sulla loro condizione fisico-tecnica. Nel match disputato ieri e stiamo vedendo alcune immagini prese dal canale YouTube del Piacenza Calcio nel match di ieri contro i Biancorossi tornati in Lega Pro e Biancocelesti hanno vinto per quattro reti a uno con i gol di Tremolada, Caputo e Moreo nel primo tempo e di Davide Dio nella ripresa. Per il gruppo Biancoceleste ora scatta un meritato riposo la ripresa è fissata per domani pomeriggio al Comunale quando alle 17 la squadra inizierà il percorso di avvicinamento al primo impegno ufficiale in Coppa Italia in programma domenica 7 agosto contro l'Ancona che è abbattuto nei preliminari il Sud Tirol per 4 a 3. E Firenze e la Toscana hanno ospitato la prima edizione del Trisome Games manifestazione riservata ad atleti con sindrome di Down impegnati in nove discipline sportive. Hanno aderito 34 nazioni di tutto il mondo con la presenza di circa 900 fra tecnici e atleti. Nelle nuoto sincronizzato la vittoria è andata a Marta Cantero della Chiavari Nuoto. L'intervista di Luca Castagnola. Marta Cantero come sapete sincronette della Chiavari Nuoto e Noemi l'allenatrice. C'è stata una manifestazione internazionale particolarmente importante Marta ha ottenuto un ottimo risultato, di meglio non si poteva fare e chiediamo subito quindi a Noemi che tipo di manifestazione era. Allora, erano i Trisome Games a Firenze, erano praticamente delle olimpiadi per ragazzi con sindrome di Down. C'erano vari sport, ultranuoto sincronizzato, nuoto, atletica, tennis tavolo, calcio, quindi in molte altre discipline e in questa manifestazione appunto internazionale Marta si è esibita nell'esercizio di solo e nell'esercizio di duo insieme a Martina Sassani. Com'è stata questa gara e qual è stato il momento dove è riuscita meglio e ha capito che poteva vincere la gara? Beh, nel singolo ero un po' agitata e poi ho vinto. Nel duo invece allora com'è andata? Nel doppio, ok, abbiamo fatto i booster fino a costume e le duo fuori sotto dei costume. Allora, sentiamo da Noemi, quali saranno le prossime gare, i prossimi appuntamenti? Allora, i prossimi appuntamenti dovrebbero esserci i campionati mondiali, che è in Canada, e poi i soliti campionati italiani e tutte le solite competizioni dell'anno. Ancora al nuoto, notizia che andiamo a leggere sul nostro sito www.teleradiopace.com Quarto posto assoluto con sette atleti in gara e ottima prestazione complessiva per la squadra master della Rapallo Nuoto che conferma il trend positivo di quest'anno anche ai campionati italiani di nuoto master Open Water che si sono tenuti nelle fine settimana appena trascorso nelle acque del lago di Bracciano. Tre le distanze in cui si sono cimentati gli atleti in gara, 5 chilometri, 3 chilometri e sprint. Le acque libere si confermano habitat naturale per Salvatore Deiana che conquista il suo personale triplete laureandosi campione italiano in tutte e tre le specialità della categoria M70. Ed è andata a Federico Roncagliolo di Rapallo, classe 1979, la prima tappa del Sea to Sky, la competizione che si è svolta ieri a Sori e che ha visto i partecipanti compiere un chilometro di nuoto in mare e cinque di corsa fuori strada nella categoria Elite femminile successo per Federica Verdoia. La seconda tappa della corsa si svolgerà il prossimo 28 agosto a Zoagli ad attendere gli atleti. Ci saranno una serie di eventi collaterali che riempiranno piazza 27 dicembre. Nella stessa giornata si svolgerà anche la seconda edizione della Zoagli Sport & Fun, chermesse di presentazione delle associazioni sportive del territorio. E con lo sport si conclude questa edizione di Teguglioggi. L'informazione ritorna domani mattina alle 7.30 con il Buongiorno di Teleradiopace insieme a Marco Revello e poi la prima edizione del TG13 in onda alle 12.45. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito www.teleradiopace.com Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata. Grazie per essere stati con noi.